Un uomo parte, il mistero avvolge la sua destinazione. Quest'uomo ha dato il potere ai suoi servi e ciascuno il suo compito. In particolare c'è una funzione alla quale tiene, quella del portiere che è incaricato di vegliare. Quando ritornerà il padrone di casa? Non è dato saperlo, ci manca l'ora esatta, non è possibile programmare, schedulare. Quel che conta in questo racconto non è affatto il passare delle ore, il corso del sole, ma il fatto che il padrone potrebbe tornare da un momento all'altro. Non ci sono informazioni sull'arrivo né possibili segni. Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento, ammonisce dunque Gesù. Attenzione, il sonno è la condizione dell'oblio e poi il padrone arriva, sì, ma all'improvviso spezza e spiazza le attese, non rientra nella logica delle previsioni del tempo, che passa o che fugge. Non è sottomesso alla gabbia delle nostre agende, ne si fa annunciare, si trova pronto chi è libero dalla rigidità delle proprie scadenze.